Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo video di approfondimento di Assalto Imperiale, modalità di gioco scontro diretto, proposto dai ragazzi dell'Udic Incoming. Si avvicina l'estate, siamo già tutti pronti e scalpitanti per andare al mare, però noi vogliamo continuare a proporvi il nostro consolido appuntamento del martedì e del venerdì, prima di salutarci per la pausa estiva. Continueremo a proporre i video e a pubblicarli fino alla fine di luglio, per poi rivederci i primi di settembre. Nel video di oggi interrompiamo la trattazione della Wave 5, la Wave attuale alla quale siamo arrivati a presentarvi il prodotto, presentarvi il gioco nella sua modalità scontro diretto. Interrompiamo quest'oggi per parlarvi di un archetipo, un archetipo che io ho giocato tantissimo, davvero tantissimo, e che è stato uno dei capisaldi del meta ribelle di Assalto Imperiale per tantissimo tempo. Vi parliamo oggi della Twins. Le ultime presentazioni, gli ultimi due video, ci hanno permesso di conoscere due personaggi fondamentali, o comunque due uscite fondamentali, all'interno di Assalto Imperiale, modalità di gioco scontro diretto. La prima è stata, ovviamente, la Sora Lella, la nostra amatissima principessa Leila Organa. La seconda, invece, è stata gli Eco Base, introdotti da Guido. Queste due uscite hanno fatto sì che nascesse uno degli archetipi più importanti e più fondamentali di tutto il meta ribelle, fino ad oggi conosciuto. Ovviamente, questo meta si è evoluto nel tempo, nel momento in cui noi stiamo raccontando questo, è già uscita la wave di Jab, la wave di Erasindulla, che ha stravolto le carte in tavola, ma per tantissimo tempo quest'archetipo che oggi vi racconteremo è stato fra i principali all'interno della fazione ribelle, e ancora oggi può continuare a dire la sua. E vi parliamo dell'archetipo dei Twins. Nato dall'unione di queste due carte, Leila Organa come carta schieramento, e Sons of Skywalker, ovvero figlia di Skywalker, come carta comando, è nata la sinergia ottimale fra due pezzi che fra di loro sono di fatto fratello e sorella all'interno del background di Star Wars, ma che all'interno del gioco presentano una sinergia altissima, ovvero Luke Skywalker del corset e Leila Organa. Questo ha dato origine ad un archetipo fondamentale, ad un archetipo fantastico, che si basa sostanzialmente sul concetto di multiple attivazioni. Un concetto di attivo Leila, con il suo comando, ovvero autorità in battaglia, e faccio attaccare lei e un'unità a fianco, quindi un'unità entro tre caselle da lei, in questo caso Luke Skywalker stesso. Potendo arrivare a effettuare al prezzo di due attivazioni ben tre attacchi, attacca Luke, attacca Leia che fa riattaccare Luke, o qualsiasi modello che abbia ovviamente un attacco, ovviamente l'attacco è simbolico nel senso può essere sia Milik che Ranger, però ovviamente si consiglia un attacco Ranger per sfruttare al meglio il bonus di Leia. Ora, questo archetipo, sancito dall'uscita di Leila Organa e successivamente da Jacob Bayes, ha permesso nella storia tantissime liste che si sono susseguite. La sua primissima versione era la famosissima Twins Trooper, ovvero la Twins che si basava su un apporto, su una presenza notevole di troop, di unità col tratto Trooper, ovvero soldato, al suo interno. Ed era composta da sei attivazioni, con ovviamente il Care Pack Ribelle Classico, quindi Gideon e C-3PO, Leia, Luke Skywalker e poi due unità di Trooper. Questi due Trooper erano gli Elite Base, quindi i Trooper Ribelli Elite, e gli Echo Base Regular, ovvero quelli grigi, non quelli Elite. Questo spam di Trooper permetteva di rinfoltire il mazzo delle carte comando con tantissime carte a tema Trooper, tra cui le più forti dell'epoca, che erano granate e rinforzi, e metterci carte interessanti anche come carte di ausilio a tutti quanti, e ovviamente inserire il pezzo fondamentale della combo, ovvero figlio di Skywalker. Andiamo a vedere questa lista come era fatta. Composta a sei attivazioni, Luke, Leia, Gideon, C-3PO, Elite, Soldati Elite, Echo Base e Alto Comando Ribelle, aveva un mole di pescata notevole, un mole di controllo degli obiettivi notevole, grazie ovviamente a tutte le attivazioni che avevamo, ma soprattutto anche alla durata dei stessi Echo Base Regular, che ignorando anche i terreni intransitabili, parliamo sempre del meta in cui c'erano le mappe del Dianoga, c'erano le mappe di Leia, c'erano le mappe di Ysb, che era appena uscita, e quindi noi avevamo tantissimi terreni intransitabili. In Ysb no, ma in Dianoga e in Leia tantissimi, il che quindi ha fatto sì che questo archetipo diventasse molto molto forte. Inoltre era anche brutale, perché tra la potenza di fuoco di Luke, la potenza di fuoco di Leia che fa risparare o Luke o un altro modello, i Rebel Trooper Elite che si autofocusano, comunque la mole di danni era davvero davvero notevole. Inoltre era tutta roba che comunque difendeva col bianco, che è un dato che sì dà gioie e dolori, ma se inizia a dare gioie, che sbilancia completamente l'attacco del nostro avversario, rendendo davvero tanto difficile il fare danni ai nostri modelli. Detto questo, questa lista è stata predominante nel meta Ribelle, fin tanto che non è uscita la Wave 6, che si è portata dietro il pack delle carte spia, e pertanto è stata evoluta questa lista, abbandonando l'archetipo Trooper in favore dell'archetipo Spie. La sua evoluzione è stata la seguente. Quindi, con l'introduzione delle carte spia, si è scelto di abbandonare carte come i Soldati Elite e i Soldati Ecobase, mettendo due Saboratori Elite, due squadre Saboratori Elite. Il punto in più è stato speso come One Diplomatic Mission su Gideon, oppure poteva essere speso in altre maniere, altre carte a un punto, come ad esempio Equilibrio nella Forza o altri generi supporti a uno. Diciamo che i Saboratori, vista la presenza di Luke Skywalker, non avevano la necessità di avere il target in computer uscito in hot, perché tanto comunque ci avrebbe pensato Luke a farli rerollare, loro focusati da Gideon e C3PO avrebbero comunque fatto un output di danno notevole. Inoltre, anche loro difendendo col bianco, facendo danni e splash ad aria visto il Blast, stannando contro i Banta, muovendo 5, avevano un controllo degli obiettivi sul territorio, dei terminali e del movimento delle missioni veramente notevole. Inoltre, avevamo ben tre spie nella lista. Che cosa significa avere ben tre spie? Significa avere la possibilità di accedere a tutto il toolpack di carte spie uscite con la Wave 6, che sono Diniego, Comunicazioni Disturbate e Fuga di Informazioni. Queste tre carte, affiancate ovviamente dal classico e immancabile figlio di Skywalker, permettevano a Leia di ripescarle in continuazione, aumentando le proprie attivazioni, ma soprattutto nullificando le azioni del nostro avversario, in quanto noi con queste carte riuscivamo a controllare perfettamente la mano e le giocate del nostro avversario. Pensate voi a giocare contro un avversario che vi controlla tutti i turni le carte a costo zero. Le carte con tre gruppi a costo fino a tre, perché Comunicazioni Disturbate, avendo tre spie, due Sabolatori Elite e Leia, permetteva di counterare fino a tre, e permette tuttora di counterare fino a tre. Fuga di Informazione, che si gioca senza spendere un'azione, ed è ottima su personaggi come Leia che comunque ricaricano le ferite, le recuperano, o al limite usate anche sui Sabolatori, andando a scartare le carte meno costose. Giocate contro un giocatore che ad esempio banta, gli beccate schiacciamento in mano, oh, io tre danni me li prendo per togliere schiacciamento. Poi tanto sparo con Leia e mi recupero le due ferite, quindi comunque, cioè, non è una gravissima perdita. Sono veramente carte molto forti, che se poi io riesco a rimischiarle nel mazzo, e le ripesco, visto che comunque ho Alto Comando Ribelle, pesco già due, quindi di base, se controllo un Terminale pesco tre, quindi comunque la mia pescata è notevole ogni turno, di fatto riesco veramente a essere tanto, tanto, tanto incisivo. Non a caso questa lista è stata una lista dominantissima, fino a che non è uscita le wave successive, quindi vi parliamo anche con la wave di Obi-Wan, Inquisitore e Grido, fino anche all'uscita delle wave successive in Italia. Diciamo che l'unica lista, diciamo l'unica uscita che ha sbilanciato in un certo senso la Twins, è che la resa subottimale è Salusha e Jabba, che ha completamente stravolto gli equilibri. Ma fino alla wave 7 era una lista davvero davvero tanto performante, per Giunta, dopo le nuove FAQ, è diventata ancora più forte. Io stesso l'ho giocata per mesi, questa lista, e ci ho vinto anche diversi tornei, tra cui un regional in Italia, quindi comunque parliamo di una lista che ha fatto sempre enorme 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 risultato. È una lista, non è facissima da giocare, non è auto-win, perché comunque lei è fragile, i sabbatori sono fragili, Luke Solo è resistente, però che comunque se giocata bene, se parti bene, riesci e soprattutto sai che cosa devi counterare e cosa non devi counterare, è una lista che è veramente, qualsiasi attivazione e qualsiasi carta è forte. Il concetto di Twins si basa moltissimo sul fare una cosa fatta bene, in questo caso è fare tanti danni, sia nella versione trooper che nella versione con le spie. In più aggiungiamo dei tratti, come ad esempio nelle spie, quello di controllare, o nei trooper quello di rispammare soldati, o comunque lanciare granate, che fa sì che la lista diventi ancora più incisiva. Il vero fulcro della lista non è tanto il tratto, che è sicuramente una cosa ottimale, è sicuramente una cosa veramente, veramente forte, ma il trucco nella lista è avere, di primo turno, Sons of Skywalker in mano, e tra tre di pescata, carta di turno, carta di alto comando ribelle, carta di controllo del terminale, o di altri effetti, tipo devotion, planning, eccetera, eccetera, l'avere il prima possibile Sons of Skywalker, quindi figlio di Skywalker, e poi luparlo, quindi riprenderlo in continuazione con Leia, è davvero, davvero fondamentale. Il partire di primo turno, con Sons of Skywalker, che tu lo attivi Luke, giochi figlio di Skywalker, lo stappi, attivi Leia, spari, rispari con Luke, e poi dopo riattivi Luke, dopo aver rimischiato figlio di Skywalker nel mazzo, avete fatto al prezzo di due carte schieramento, quattro attivazioni, tutte quante che menano davvero, davvero tanto, ed è un qualcosa che in termini di redditività, delle carte schieramento, e del loro valore, nel campo, è un qualcosa di mostruoso, di spaventoso, l'output di danni che voi potete fare, è veramente tale da buttar giù un banta, in una raffica di fuoco, se voi vi mettete a fare i dati in media, prima Luke, media Luke, media Leia, media Luke di nuovo, Soundsoft Skywalker, media Luke di nuovo, togliete un banta di primo turno, quindi ragazzi, stiamo parlando di una potenza di fuoco, veramente, veramente fantastica, non a caso, la lista con, con ovviamente le spie, che garantiva anche in late game, garantiva anche nei turni successivi, un controllo della mano dell'avversario, visto il tool pack che avete adesso a schermo, delle carte spia, è sicuramente un qualcosa che rende davvero davvero formidabile questa lista, e che l'ha resa formidabile, in più anche le fac che comunque permettevano di prendere punti, uccidendo i singoli modelli, permettevano di giocare una specie di nascondino, uscivo, uccidevo, mi rinascondevo, che comunque permetteva di fare punti, e misti anche ai punti missione, si arrivava facilmente a 40. Il meta in cui è stata giocata questa lista, prevedeva, come dicevo, Dianoga, Leia, quindi Coruscant landfill, nel Vanyan Warzone, e la mappa degli Ysb, che erano tutte e tre mappe, che si prestavano molto bene, a questa lista, un po' per i terreni, diciamo, difficili, accidentali, un po' per i vari corridoi, che permettono tanti punti in cui nascondersi, e per questo motivo, questa lista è risultata, davvero davvero tanto vincente, ora, con le nuove mappe, tra cui Jabba, proprio ieri è stata spoilerata, la nuova mappa, quella dei Ranger, che sostituirà, la mappa degli Ysb, Obi-Wan e tutto, diventa molto più difficile, giocare una lista del genere, inoltre poi l'aggiunta, delle carte Hunter, che hanno tolto il bianco, di fatto è che hanno aumentato drasticamente la potenza di fuoco, quello che io tocco potenzialmente esplode, pertanto hanno reso questa lista, davvero ostica da giocare, contro questo nuovo meta, però, ha avuto le sue fiammate di gloria, ed è stata una lista che è stata, secondo me, uno dei tier del formato, per mesi e mesi, specialmente in Italia, quindi conoscerla, e avere uno speciale su di lei, secondo me è un qualcosa, che è davvero tanto fondamentale, anche per, la conoscenza del gioco, il nostro approfondimento dello stesso. Ora, vi vogliamo lasciare con, alcuni consigli, perché comunque, secondo noi, un archetipo Twins, può essere ancora continuato a giocare, certo, non è più competitivo come una volta, ma comunque può essere piacevole, perché è una sinergia davvero tanto carina, e molto anche da background, se mi permettete il termine, e per questo motivo, vi vogliamo presentare, due liste, tanto simpatiche, la prima è, una spam di eroi ribelle, che si basa sul concetto di, eroi che è fort, eroi che è fort, è un supporto, che vedremo nelle prossime uscite, uscirà nella wave 6, con Lando, e sostanzialmente, è un upgrade di campo, a costo zero, che permette di usufruire vantaggi, con la morte dei nostri personaggi unici, muore un personaggio unico, peschiamo una carta, e ne rimettiamo una in fondo al mazzo, quindi ci permette di ciclare il nostro mazzo, cercando la carta che vogliamo, è una lista a tante attivazioni, è una lista simpatica, che vi consiglio di provare, e sicuramente vi divertirete, la quarta e ultima lista, che vi presentiamo, sempre basando sul concetto di twin, è basata sulla nuova upgrade di G88, il famoso focus to kill, ovvero concentrato per uccidere, è un upgrade che è uscito adesso in italiano, con la wave numero 8, scusami, con la wave numero 9, ovvero la wave di Erasindul, all'interno del pack dei Java, è presente questa carta, che ci permette sostanzialmente, di migliorare l'efficacia di G88, nel campo di battaglia, e questa lista che vi proponiamo, a sette attivazioni, sfrutta la wave 9, ed è anche attualmente giocabile, nel meteo italiano, in assenza ancora di Java. Ragazzi, per oggi è tutto, ovviamente, questo video è stato un video molto veloce, per raccontarvi un po' della storia, di questi personaggi, un po' della storia di questo archetipo, che ha stravolto, e che nel tempo è evoluto costantemente, è evoluto, prima partendo dalla sua versione trooper, poi spia, per poi cambiare continuamente, nelle versioni che vi abbiamo presentato, in questi ultimi minuti del video, e che ritenevamo fosse fondamentale da conoscere, per chiunque fosse un appassionato, della metà di gioco scontro diretto, e delle meccaniche, che dietro esso si basano. Ragazzi, noi vi ringraziamo per seguirci, anche con questo caldo, e con questi ultimi giorni di luglio, prima delle tanto attese vacanze, e quindi ferie. Ragazzi, non posso far altro che augurarvi buon gioco, ma soprattutto, buon divertimento!